Perché foto video? Cioè, quello che ci aspetta è il titolo di questo video Solo gli uomini veri sopravviveranno E beh, data la situazione siamo adatti Sono stati convocati solo i migliori Sono stati di loro? Sì Alessio, mi sa che siamo gli unici che non sanno fare niente Cioè, noi stiamo qua e mangiamo le olive Mentre c'è solo gente che lavora Chi fa i panzerotti, chi li frigge Chi li mangia Chi mangia Angelo, la crescenza è occupata Che vuoi la crescenza qua? E non possiamo fare noi Posso fare io? Vai, vai, vai Alessio, il tuo momento, il tuo momento Che posso fare? Niente Mettiamo l'istratto Alessio, Daniela, mamma Posso, è entrato nel suo cuore Ha detto Alessio quando in realtà era un altro Già mi ama No, no No, no Eh, sai che mi hai chiamato? Stanno facendo... C'è bisogno di una che si sa muovere Mi fa piacere che mi dai Signora, puoi fare qualcosa Alessio? Io posso fare qualcosa? È molto creativa, molto concreta Hai visto? Diciamo hanno licenziato Lo ignoro totalmente Cosa stiamo facendo E se uno non capisce che con l'olio Sono troppo giudice Voi avete... Si siete imparati ragazzi E parlate con il papà di Angela Che... Papà di Angela Cosa posso fare? Non so io che cosa devo fare Puoi tamponare leggermente la pasta per asciugarla Ma delicatamente Si fatevi fare i lavori tipo dei bambini Quelli... Quelli che fai fare ai bambini normalmente Vedete... Ancora sono da girare E io già No E questi genitori non esistono più Queste cose inutili Vai ad acchiappare le zanzare Alessio Qui Ma non gli farei fare un movimento Che sudola poi Eh li ha più cantiti Ma li prendono con una... Bistoli Tu mi voglio se sbaglio quello Persino... Voi scherzate Ma non sapete che l'olio viene tutto in faccia eh Quando fai queste cose Cioè si scherza perché è giusto anche scherzare Cioè lui neanche sta facendo... Neanche fa la mossa lì Neanche ci prova No 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 È il gesto del saltapasta questo Eh ma non è pasta Il gesto del saltapasta Non va bene Fai con l'olio E poi sono bagnato e sfregio nella... Eh Ok Dio 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 Dio